Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Fedez, infatti, non parteciperà alla puntata di debutto del programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale. La sua intervista era prevista da giorni, ma non si realizzerà a causa di complicazioni di salute. Questa indiscrezione è stata trasmessa da Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi, il sito Davide Maggio aveva già diffuso voci riguardanti la mancata partecipazione del rapper alla prima puntata dello show. Secondo questi rumors, l'assenza sarebbe stata legata al presunto coinvolgimento dell'artista nell'indagine relativa al pestaggio di Cristiano Jovino. Tuttavia questa notizia era stata smentita, sia dalla Rai che dallo stesso Fedez. Ora però, sembra esserci un altro motivo dietro la sua mancata partecipazione. Nel post pubblicato su The Linger News si legge, Viale Mazzini, con una nota piuttosto chiara, ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per motivi di salute. Ma dopo la bufera mediatica che ha travolto il rapper per Larissa Coniovino, che abbiamo chiarito su questo giornale, tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla TV pubblica, a causa dell'indagine in corso per Rissa, lesioni e percosse, in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Jovino. E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione. Il post su The Linger News si conclude così, Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco, ed è stato portato d'urgenza in pronto soccorso. Questa è l'unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan su Rai 2. Queste parole hanno scatenato l'allarme, dato che solo lo scorso ottobre, Fedez era stato ricoverato per un episodio simile. Ad ogni modo, per il momento non ci sono conferme sull'accaduto, e possiamo solo valutare le parole del re dei paparazzi. Fedez è noto per essere molto aperto e comunicativo sulle proprie situazioni personali, e possiamo aspettarci che presto si metta in contatto con fan e followers per metterli al corrente, e speriamo, rassicurarli. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 a tutti.